La passione per l'antiquariato e per il fashion, la creatività e lo storico magazzino di famiglia nel centro di Arezzo sono gli ingredienti che in soli due anni e mezzo hanno portato al successo Lebole Gioielli. Il magazzino, che fu di Mario Lebole oltre 60 anni fa, è adesso una galleria di oggetti di antiquariato, ma soprattutto un laboratorio di idee, dove la figlia Nicoletta e la nipote Barbara pensano e mettono in mostra le collezioni di gioielli interamente realizzati ad Arezzo ed esportati nel mondo. Beh, un bilancio buono, anzi buonissimo, inaspettato direi. In due anni siamo riusciti a lanciare il prodotto in tutto il mondo e con un risultato incredibile. Hanno esposto il prodotto al MAD, che è il Museo Arte e Designer di New York, dove sono stati scelti solo 50 designer in tutto il mondo e noi è stata una cosa veramente, ripeto, inaspettata, però straordinaria. Stoffe antiche e pregiate, provenienti da tutto il mondo, sete italiane, pietre, legno e adesso anche argento, sono le materie prime che compongono le varie collezioni dedicate al Giappone oppure all'Africa. Le ultime premiate a Gold Italy 2015 sono India e le regaline. Io ho un passato di antiquaria. A un certo punto della mia vita ho cercato di unire quello che era la mia esperienza antiquariale con il designer e fare un oggetto che la donna possa mettere, un pezzettino di antiquariato da portarsi indietro, perché ogni orecchino ha delle stoffe antiche di vari paesi, di Giappone, Uzbekistan, le nostre stoffe degli anni 60 di Como, se non altre parti del mondo che ho visitato, dove ho portato questi tessuti antichi e le ho niti a un designer spiritoso, moderno. L'ultimo nostro prodotto è questa regalina, che sarebbe la regina gallina e anche regalo. significa che è un prodotto con un prezzo giusto, molto divertente, che è piaciuto tantissimo e anche questo porta un tessuto antico, sempre giapponese.